In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.563 casi positivi al covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri dunque si registra un aumento di 66 nuovi casi. 361 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 63 in provincia dell'Aquila, 80 in provincia di Chieti, 124 in provincia di Pescara e 94 in provincia di Teramo, 76 in terapia intensiva, 13 in provincia dell'Aquila, 15 in provincia di Chieti, 36 in provincia di Pescara e 12 in provincia di Teramo. Mentre gli altri 864 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 146 pazienti deceduti, 116 sono i guariti, di cui 102 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 14 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 11.890 test, di cui 7.083 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi 166 si riferiscono alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 310 alla ASLE Lanciano Vastocchieti, 669 alla ASLE di Pescara e 418 alla ASLE di Teramo. Dei 66 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 26 fanno riferimento alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 12 alla ASLE Lanciano Vastocchieti, 23 alla ASLE di Pescara e 5 alla ASLE di Teramo.